But this is just the start Oh, take on some of the most exciting games only to compete in playground games Salve ragazzi, bentornati da NU su Forza Horizon 4 Dove, come potete notare, è cambiato qualcosa La zona autunnale, ma scusate, prima non eravamo già in autunno Comunque ragazzi, qua si va avanti No, forse era primavera, prima, dopo l'inverno Vedo invece una assoluta novità Che sarebbero tipo le drag race da quel che vedo Pista di accelerazione E poi ragazzi, ci sarebbe qualche arretrato vecchio al quale vorrei dare un occhio Ad esempio, le gare clandestine Non le abbiamo mai provate Ecco perché oggi non faremo nessuna livrea particolare Così guadagno tutto quel tempo che di solito ci metto E vediamo un po' di andare avanti con queste cose qua Poi ragazzi, se proprio vi devo dire la verità Ci sono delle auto che abbiamo sbloccato oppure vinto Che vorrei assolutamente Intanto guardate che bello qua in garage abbiamo Il nostro, la nostra colonnina delle forze dell'ordine Poi c'è la Gagliardo Spider ovviamente Polizia locale, facciamola così No, più che altro questa ragazzi Me l'avete menzionata un po' di volte La Königsega Gear RS Un'auto da 2 milioni di dollari Di credit insomma Che mi è stata data gratis Essendo arancione Penso che possa essere tipo di un pacchetto Sapete che io avevo preso l'ultimate Per non farci mancare proprio nulla di malavitoso in questa serie E quindi forse l'auto viene da lì Adesso la prendo Perché non l'abbiamo mai provata Questa è un'auto che vi piacerà molto Io non sono un grande fan delle super mega car Iper super hyper car Iper super mega car Iper super super high costose Ovviamente mi piacciono Però mi piacciono pure le auto un po' più modeste e malavitose Voi questo lo sapete bene Ecco perché magari spesso tendo a lavorare anche su quelle Quest'auto non è proprio il massimo della guidabilità Devo dire Beh allora Cara König Visto che mi tratti così male Così in presentazione Io ti sbatto subito a provare No, sta macchina comunque va modificata Ci va fatto Ve lo dico già Un 4VD Oddio E poi vabbè Chi più ne ha più ne metta Ma non tiene la strada mai Ah che roba Ecco la pista di accelerazione intanto Questa novità che ci hanno appena proposto Partecipiamo all'evento Buttiamo subito sta macchina Se si può Nella mischia E vedremo un po' come funziona Probabilmente ci sono degli spari Un po' Boh mi viene in mente qualche vecchio need for speed Attenzione eh Vedo brutti avversari Però il problema è che sta macchina non sta dritta Sull'asfalto Quindi potrebbe essere un bel problema Proviamola così stock Facciamo un esperimento E beh ci danno dentro gli amici eh Cazzo no raga Non sta dritta Come fa quello Come fa quello Ce l'ha uguale Ovviamente ragazzi È così Inguidabile Perché Avrebbe i controlli Immagino Però veramente così È troppo troppo cattiva Cambio di motore Non ce l'ha nemmeno Soltanto di trasmissione Ci mettiamo Il 4x4 Che va meglio Proviamo a metterci Anche le gomme Da gara Il cerchio io lo cambio Giusto perché non mi piace Quello che è il suo originale Sincero Qua si possono anche distanziare Carino Aspetto c'è solo rally e derapata Quindi ce l'ha già Da gara Diciamo Leggermente migliorata Leggermente ma Fa già paura Diciamo che adesso è il top Tra l'altro è bella Esteticamente C'è un bel gioco di colori Sono molto belli pure i colori Devo soltanto però Modificare i cerchi Che io ho montato Anche se non sta proprio male Così grigio Come la parte sotto C'è pure il loghettino rosso Ma comunque Sono nettamente più carini Scuri così Eh È talmente già Elaborata L'auto Che di livrea Non c'è praticamente Da lavorarci Cioè è tutta piena Capito Non è semplice Che dici vabbè ci metto due grafi Bella così Voglio capire se sto 4x4 Ci ha permesso di renderla Eh Vedi un po' te Adesso fa paura sta roba Porca troia Quante marce abbiamo 6 Ok Ah no ancora voglia di scherzare qua Alla pista drag No perché prima qualcuno Avrebbe riso della mia RS Solo perché mi ero scordato Di attaccare la trazione pure davanti Ho la sensazione che sta macchina Sia molto forte Molto Moltissimo Adesso Lasciando perdere la gara di accelerazione Ma proprio In generale Fatta 4x4 Attenzione E infatti Ops Ops Porca vacca Sono arrivato Praticamente a 300 all'ora Sarà a mezzo chilometro Neanche Guardate le biondine Che ci fanno l'applauso Vi aspetto Ho una bellissima casa Super campagna Riusciamo a vedere Mannaggia quanto tira Senza andare per forza In autostrada Che è lontana Da qua Occhio eh Oh mio dio 388 ma sono al limitatore E soprattutto In quanto li raggiunge Ragazzi Sono sbigottito Questa macchina Fa da 0 a 390 In qualcosa come 5 secondi Facciamo i seri ragazzi Adesso io parto da qua E voi vi fate un'idea Quanto ci mette Arrivare a 390 No vabbè Fa paura Fa paura Fa paura Soprattutto merita Di essere tenuta E merita magari Anche Vediamo gli interni Dell'auto Bellino Tutto ovviamente Digitaglia Devo girare Te vedi la curva sulla mappa Lei ci arriva tipo Troppo in fretta E comunque ragazzi Con sto 4VD È cambiato tutto Perché prima era qualcosa Di assolutamente Induidabile Adesso invece è qualcosa Di assolutamente Imbalazzante Per gli avversari Troppo forte Adesso andiamo a seminare Un po' di panico In queste Gare clandestine Che non abbiamo mai visto Le gare clandestine Andavano fatte Con un golfino Malavita Noi ce le vediamo così Soprattutto andiamo in culo al mondo Perché è in alto Andato a destra della mappa C'è una città Vabbè che qua Con i 380 Di media Facciamo presto Oh che figata Sto posto Raga Ma poi Bello Molto molto Civilizzato Voglio venire qui E trasferirmi Non c'è una casa Da ste parti Perché abito Nelle campagne Con i lupi Guarda che bello Fa molto di Germania Più che altro Però vabbè È sempre Inghilterra Dai Sono bellissime Ste strade Un po' castranti Per una roba del genere Guarda C'è anche il tram E qui proprio Fanno le gare clandestine Guarda quel castello Sto a Edimburgo Ecco forse Perché è così bello Partecipa all'evento Però si fa in ste gare clandestine Fammi capire Comunque penso che abbiamo Una macchina Drive più forte Forse O tra le migliori Cosa c'è una storiella No Nulla di troppo strano Fin qui A parte forse Che effettivamente Vedo Cioè Il parco auto È abbastanza ampio A parte non ci sono bandierine Non c'è gente Quindi si capisce Che non è nulla di organizzato Però soprattutto Oh Eh vedi Ci sono tante auto diverse Che tante volte Sotto al cofano Nascondono cose Che non si possono dire Però Nascondono Quei che nascondono Ma la macchina Che abbiamo noi È semplicemente Spaventosa Porca vacca Raga Porca vacca È un mostro Sta cosa Ah Salviamola Beh Si poteva salvare Meglio Però sono arrivato Veramente forte Poi in città Non è facile La gara clandestina Sì dai Ci sta anche L'ambiente più cittadino Ok Ok Bello Intorno al castello Spettacolare Va troppo Sta macchina Rispetto agli altri Oh no Che fai Fox Non puoi girare Mentre c'è la gara Che buone questo Oddio Vabbè Il Mercedes class E Merda Mannaggia Mannaggia Mi sono perso la strada 75% Riusciò a recuperarne qualcuno Vedi perché Non ti puoi mai distrarre In una roba del genere Non ti puoi mai Proprio distrarre 92 Eh no Ci hanno fottuti alla grande Dai Mannaggia Ho tirato dritto Guarda Ha vinto il Mercedes 663 Guarda come sono conciati Sti qua Sì ma io ho fatto schifo Perché mi sblocchi roba Noleggio più veloce Ah Ok Allora queste robe gialle Sono tipo Quelle dello stuntman Che tra l'altro Dove sono ragazzi Dovremmo riprendere dopo un po' Vedi Capitoli completati Roba a capitoli Anche quello assolutamente da vedere Qua visto che siamo di strada Che bello sto posto Vorrei venire a abitare In sta zona della mappa Però è lontana dal festival Anche se È una macchina del genere E roba Tranquillo Tre venti in città Non è un problema Perché si controlla Proprio da dio Cioè la controlli Come una macchina normale Ai 50 all'ora Cazzo sono arrivato Eeeh Scusate No però Nella sabbia No eh Qua Che cavolo è Initializing UNSC training protocol No No Ma che cavolo Mi bastava Mi bastava la Koenigsegg oggi eh Vabbè Vabbè Guarda Cazzo Ma non c'è nulla di normale qua C'è qualcosa che non va Profondamente sbagliato Tutto questo Ai Che botta le danno Dei cosi Ok Ma minchia si fa quel salto Allora evitiamo Ste robe strane qua Che ci levano velocità Vai 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 Ok Eh si avevo perso velocità prima Vai nel castello Salve Come Sì No no infatti Ok Ma chi è sta Jay Che vogliono Tu si Mi hanno rapito gli alieni Scusate Ma io non voglio aiutarvi a conquistare il mondo Ma come Cortana Ma che cazzo di veicolo sto guidando Tanto è lento come la merda Vai cammina Ma non ho capito Io sto inseguendo quel tizio Ehi la Alberi Oh Wow Quello si porta via gli alberi Scusi Sucker Oh mio dio Va bene Non lo so cosa devo fare Aiuto Aia No Bunchies mi ha dato una botta Oh No ci sono le pecore Fermi E' troppo pericoloso Fermi Non può venire sotto al tunnel Navarro Ma sti qua sono lisci Io non ho ancora capito Oddio Navarro Oh Che siete Sfiorato Loud and clear Loud and clear Va bene Ma io non ho capito Ma io non ho capito che stiamo a fare Si è drogato ragazzi Il personaggio Fa uso di cose strane E purtroppo ogni tanto Ha delle visioni Oh mio dio 8 7 6 5 4 3 2 1 Oioioioi Signori io con questa bellissima immagine Vi lascio Quest'auto è veramente Veramente fenomenale Spero abbiate potuto provarla Pure voi Assolutamente però Consigliato il 4WD Altrimenti è inguidabile Spero vi abbia fatto piacere Anche questo Nuovo episodio L'abbiamo usato anche per Fare qualche saltino In avanti Prima di tornare subito Presto a malavivere Tranquilli Signori Un grande abbraccio Vi aspetto su Instagram E da pochissimo Anche sull'altro canale Se vi interessano I miei Motovlog E correlati Diciamo Ho un nuovo canale Adesso solo per quello Vi aspetto nei commenti Grazie per il like Vi abbraccio E alla prossima Grazie per la visione